Questo programma è offerto da Palermo, oggi i funerali di Nike, la donna morta da due anni in un frigorifero Istat, una disoccupazione senza precedenti Mafia, un pentito rivela, volevamo uccidere Rudolf Giuliani Figarazzi, donne, tutta a Relax Park Palermo, dopo due anni in un frigorifero, oggi i funerali di Nike Finalmente avverrà oggi la sepoltura della ventenne nigeriana trovata morta nelle campagne misilmeresi il 2 dicembre 2011 Un uomo, dopo averla caricata sul suo furgone e portata a misilmeri, l'ha uccisa nelle campagne del paese Dell'omicidio fu accusato un operaio di 58 anni, di Belmonte Mezzagno, che alcuni mesi dopo l'arresto si suicidò in carcere Da allora il corpo è rimasto in una cella frigorifera dell'istituto di medicina legale e per lentezze burocratiche non è mai stato seppellito La sua era stata una vita di sfruttamento, che a soli vent'anni l'aveva già segnata profondamente Nike voleva migliorare la sua vita sposandosi, abbandonando il marciapiede, il parco della favorita nello specifico, dove si prostituiva È stata uccisa, bruciata e trovata carbonizzata dai carabinieri, ma nemmeno da morta ha trovato pace La sua tomba è stata un frigorifero dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo Fino ad oggi mai nessuno ha potuto portare un fiore a Nike Favura Nengl Una morte che sconvolse anche la comunità nigeriana che organizzò una manifestazione per dire basta ai suprusi e alla tratta delle donne che vengono dall'Africa Nessuno ha mai chiesto in Nigeria che la salma tornasse a casa Nike era sola al mondo Dedicheremo finalmente delle giuste parole a questa ragazza, spiega Don Enzo Volpe della parrocchia di Santa Chiara All'albergheria, dove in mattinata si svolta la cerimonia A celebrare il funerale, prosegue, sarà il pastore della comunità nigeriana, padre Vivian A pochi giorni dalla festa delle donne c'è poco da festeggiare, ma tanto di cui prendere coscienza Istat, tasso di disoccupazione senza precedenti Sono più di 3 milioni le persone senza lavoro 700.000 sono giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni Quello del 2013 è il tasso più alto, raggiungendo così quello del 1977 I giovani in cerca di lavoro sono 690.000 A gennaio, infatti, il tasso di disoccupazione è balzato al 12,9% Rialzandosi di 0,2 punti percentuali su dicembre e di 1,1 su base annua I disoccupati fiorano i 3,3 milioni Nel 2013 gli occupati sono diminuiti di 478.000 A rivelarlo è l'Istat che identifica il 2013 come l'anno peggiore in assoluto Tra il 2008 e il 2013, gli anni della crisi, si contano 984.000 nuovi disoccupati I giovani, nel frattempo, cercano di trovare un'occupazione che permette l'esplicitarsi delle proprie attitudini Combattendo così l'Italia dei mestieri, instaurando quella delle vocazioni Acqua dei Corsari, un quartiere alla periferia di Palermo Qui la situazione ogni giorno è abbastanza drastica Le persone non arrivano più a fine mese, in quanto con 200 euro al mese è impossibile arrivarci Medicine non se ne possono comprare e nemmeno a certe volte si può permettere un piatto di pasta Oggi siamo qui nell'associazione di volontariato Tuteliamoci Ollus E parliamo con qualche persona che ha queste difficoltà E con il presidente di Tuteliamoci Ollus, Carmelo Castello Quali sono le situazioni più drastiche che voi riscontrate giorno dopo giorno? Acqua dei Corsari è la periferia estrema di Palermo Quindi noi siamo a confine con i paesini limitrofi E qui noi abbiamo praticamente l'abbandono totale da parte delle istituzioni E da parte di chi potrebbe fare qualcosa Qua praticamente ogni giorno vengono decine e decine e decine di casi Dove persone che non possono più mangiare, persone che tornano in macchina Persone che non si possono più curare, bambini che sono denungriti Il livello culturale si è abbastato notevolmente E la maggior parte di queste persone sono persone che lavorano E nonostante lavorano non riescono a completare il mese Perché i soldi non arrivano neanche al giorno 15 Pagando l'affitto, pagando le tasse, pagando le bollette E pagando tutto quanto Noi cerchiamo di aiutarli Noi siamo tutti i ragazzi che ci siamo messi in gioco E cerchiamo di aiutare il prossimo Senza nulla a pretendere Non chiediamo nulla Chiediamo solo collaborazione E un aiuto da parte di chi ci vuole dare So che avete parlato con l'assessorato alle politiche sociali Qual è stata la risposta? Intanto è l'assessorato comunale alle politiche sociali? Sì Perfetto La risposta è stata che a breve noi avremo un incontro in sede nostra Dove noi porteremo a conoscenza appunto la maggior parte di questi casi E dimostreremo con fatti e col termometro che noi ogni giorno abbiamo in mano E che è caldissimo E che c'è bisogno di un aiuto da parte dell'istituzione Chi può deve fare qualcosa Cosa succede dal suo punto di vista? Sono invalida perché ho dei problemi seri Non mi posso curare perché con l'invalidità che prendo 258 euro Non riesco a fare niente Sono piena di debiti perché mi vado a fare la spesa E glielo pago mensilmente Il pane glielo pago mensilmente Quindi quando prendo quei soldi Li individuo e tutto il mese hanno l'uia E tra l'altro io ho bisogno costantemente di medicine che servono per la mia vita E io non potendomeli comprare perché pago anche il ticket e le medicine sono un po' troppe Io manco prendo più medicine perché non li posso comprare E anche per lei la situazione è abbastanza seria Anche perché ricordiamo che pur cercando però da lavoro ce n'è ben poco O quasi non ce n'è Quindi qual è il vostro appello? Che cosa chiedete oggi? Oggi io ho bisogno di trovare lavoro E essere... Come abbiamo potuto capire Oltre alla carenza di denaro La gente reclama la propria dignità Perché un uomo non essendo autosufficiente Anche economicamente È privo delle forme più basilari della propria dignità Messina Arrestati gli svaliggetori di ville In tre anni aveva svuotato decine di case di facoltose famiglie messinesi Con un bottino di oltre mezzo milione di euro È questo ciò che ha compiuto la cosiddetta banda dei ladroni messinesi I nove malviventi Tra cui anche un agente Avrebbero compiuto furti in varie case e ville di famiglie facoltose Portando via oggetti preziosi Mobili antichi E grandi quantità di denaro I ladri erano ormai altamente specializzati Oltre che nell'eludere con facilità sofisticati sistemi di sicurezza Anche nello scassinare svariati tipi di cassaforti Addirittura dopo l'ennesimo colpo Si sono firmati Lasciando un bigliettino con su scritto Il re delle casseforti Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Anna Maria Arena Sono scattate il 5 agosto 2010 Quando Antonio Bonanno, Stellario Fusco e Filippo Fusco Furono arrestati in flagranza di reato E da qui gli inquirenti sono risaliti all'intera organizzazione criminale Con altre 10 persone indagate Rendi fantastico il momento più bello della tua vita Con eleganza, raffinatezza e stile La schiera, sala attrattenimenti, ristoranti e pizzeria Contrada pieno di scala a Corleone Strada statale 118, chilometro 40 a 500 Telefono 091 8467529 Grazie a tutti You sexy, sexy dancer In un ambiente ancora più glamour Rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Mafia, un pentito rivela Volevano uccidere Rudolfo Giuliani Sono uscite importanti rivelazioni Dalla voce del pentito Rosario Naimo Infatti, l'uomo avrebbe confessato ai magistrati Che si occupano dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia Che al tempo della sua permanenza negli USA De aver ricevuto la visita di un uomo d'onore siciliano Benedetto Villico Che gli portò un messaggio di rina Da consegnare ai boss italo-americani Gambino Nella lettera in questione, risalente agli anni 80 Si ordinava l'omicidio dell'ex sindaco di New York, Giuliani Soprannominato procuratore di ferro E autore di importanti inchieste su droga e mafia Che lo videro collaborare col giudice Giovanni Falcone L'omicidio lo vogliono loro Queste erano state le parole del boss corleonese Dette al contrario a Donaimo Preoccupato per i possibili contraccolpi Di un così eclatante omicidio Il movente del delitto da compiere Era quello di isolare Falcone Che in Giuliani aveva trovato Un ottimo partner investigativo Il tutto rezza sempre al vaglio Delle autorità competenti Che decideranno il da fare Palermo Ars passi avanti sulle riforme delle province È stato approvato Dalla maggioranza dell'assemblea L'emendamento secondo il quale Saranno i consiglieri dei comuni aderenti ai consorsi Che sostituiranno le province regionali Ad eleggere i presidenti dei consorsi stessi Scelti tra i sindaci facenti parte dell'assemblea Che dovranno essere eletti non solo dai primi cittadini Ma anche da tutti i consiglieri comunali dei comuni coinvolti Evitando così il ricorso alle urne Il provvedimento prevede inoltre Che l'aggiunta sia composta dal presidente E da un numero massimo di otto assessori Nominati dal presidente fra i componenti Dell'assemblea e del consorzio Per il presidente della regione Crocetta Questa norma avrà un ruolo di mediazione Per venire incontro alle richieste delle opposizioni Ma l'opposizione insorge Definendo il provvedimento incostituzionale Giudicando negativo l'allargamento del voto Anche il resto dell'aggiunta Trapani, ritrovati reperti storici in mare Due ritrovamenti archeologici Recuperati dai fondali trapanesi Sono stati presentati al pubblico Si tratta di una stelle paleocristiana con busto Emersa nella zona antistante Il faro di Punta Grantiola A Campobello di Mazzara Ed una porzione di statue in marmo bianco Del II secolo d.C. Rivenuta nelle acque marsalesi di Capo Boeo Nella stelle rettangolare di colore giallo-oro È raffigurata una figura umana Con corona e bastone Evidentemente rovinata dall'erosione dell'acqua Mentre nella porzione di statua È presente la parte alta di un busto femminile Con un seno conservato E l'attaccatura del collo e delle braccia Si pensa che nascosti nei fondali Ci siano ancora molti altri resti Che aspettano di essere riportati alla luce Dopo l'apertura del punto vendita Ikea a Pisa Le affermazioni di Valerio Di Bussolo Responsabili delle relazioni esterne del colosso scandinavo Fanno sperare ad un altro punto vendita Ikea in Sicilia E nello specifico a Palermo L'operazione è in corso di trattative da mesi Quasi un anno I vertici italiani ed europei Ikea Sono già venuti più volte nel capoluogo siciliano Incontrando sia l'assessore comunale di Marco Che gli uffici tecnici competenti A cui hanno già presentato i progetti Per la realizzazione dello stabilimento L'area individuata sembrerebbe essere Limitrofe al centro commerciale Forum Si stima che le nuove assunzioni Possano essere circa 200 La precauzione non è mai troppa Fra i tanti dubbi e le perplessità Resta sì la speranza che il colosso svedese Possa aprire il suo centro Ma che tutto ciò accada nel rispetto Delle regole dell'ambiente La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata I siciliani un popolo che merita di essere ben informato La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano E questo lo slogan del nuovo portale di informazione Trinacrianus24.it Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo Corrispondenti da tutta la Sicilia Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità Un portale di informazione costituito da giovani universitari Uniti non solo per la passione per il giornalismo Ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale Trinacrianus24.it sta arrivando Noi siamo pronti E voi? Noi siamo pronti In un ambiente ancora più glamour Rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Villa Abate Raccolta alimentare contro la fame Il Banco delle Opere di Carità ha organizzato una raccolta alimentare per combattere la fame in Italia I volontari dell'associazione saranno presenti all'MD Discount di Via Natta a Villa Abate e Paghi Poco e Conad in Via Messina Marine Con lo slogan Aiutateci ad aiutare si spera di superare i 1000 kg di cibo raccolti l'anno precedente Ficarazzi, incontro al Relax Park Dalle ore 9 alle ore 13 di sabato 8 marzo al Relax Park di Ficarazzi ci sarà un incontro a proposito della festa della donna L'evento che è stato realizzato dal Movimento Sociale d'Azione si svolgerà per sensibilizzare la cittadinanza sul vero simbolo di questa festa che non è tanto il mazzolino di Mimosa e l'uscita a cena con la propria donna ma le lotte che le donne affrontano quotidianamente per cercare di far valere i propri sacrosanti diritti Villa Abate, incontro alla donna nell'arte Il comune di Villa Abate invita tutta la cittadinanza all'incontro alla donna nell'arte che si svolgerà in biblioteca comunale lunedì prossimo alle 17.30 L'evento, moderato da Chiara Giordano, sarà curato dal professore dell'Università Pontificia Urbaniana di Roma, Rodolfo Papa Interverranno il dirigente all'assessorato alla sanità Giacomo Scalzo e il vice sindaco con delega alla cultura Francesco Gio Si spera in una forte partecipazione Giacomo Scalzo Questo programma è stato offerto da Un caro saluto a tutti voi amici di ilmeteo.it Previsioni per venerdì 28 febbraio 2014 Tempo in peggioramento al nord per la formazione di un centro depressionario Pioggia anche al centro Vediamo un po' che cosa ci dice il dettaglio grafico a questo punto Al nord nuvolosità diffuse Inizialmente deboli piogge sparse Poi nel corso del pomeriggio Il tempo peggiora con precipitazioni che diventano più diffuse e moderate su gran parte delle regioni Al centro molto nuvoloso ovunque Da prima piogge in Toscana Poi peggiora anche sul Lazio E Sardegna occidentale con precipitazioni via via più moderate Verso sera piogge forti sull'alta Toscana Anche contemporanei Cattivo tempo anche sul Lazio Specie nell'area centro-meridionale Contemporali Più asciuto invece sui versanti adriatici Al sud di primo mattino piogge sulle coste tirreniche calabresi Ma fortunatamente migliora cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove Verso sera arrivano delle piogge anche sul nord della campagna La neve cadrà debole sulle Alpi Sopra i 600-700 metri In Appennino abbiamo visto sopra i 900-1000 metri circa Diamo un'occhiata anche alle temperature minime in diminuzione Vedete su tutte le regioni Comprese tra 1 e 8 gradi ovunque Durante il giorno prevediamo 8-12 gradi al nord Fino a 14 gradi al centro e 12-16 gradi al sud Amici l'aggiornamento si conclude qui per il momento Grandi novità prossimamente sul nostro sito Migliorie che lo renderanno ancora più interessante Continuate a seguirci È gratis e solo su ilmeteo.it Dove la Il fa la differenza Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti